Sono stati pubblicati sul sito del Comune due avvisi per l'assegnazione di 80 alloggi, case e mappa e un terzo per il cosiddetto bonus economico. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali del Comune, Francesco Cristiano Bignotti. Il primo dei due avvisi è rivolto a nuclei familiari sino a quattro componenti già costituiti e con reddito ESEE compreso tra un minimo di 12.000 euro ed un massimo di 30.000. Il secondo è rivolto invece a nuclei familiari di nuova costituzione composti da singolo coppio e cono senza figli minori e con reddito complessivo lordo compreso tra i 13.000 e i 35.000 euro. È previsto il pagamento di un cannone di locazione fissato in base al valore medio dei patti territoriali. Per accedere bisogna essere residenti nel Comune dell'Aquila o in quelli del circondario da almeno 5 anni. Si tratta di due provvedimenti coerenti con la nuova linea di gestione dei complessi case e mappa. Oltre a fornire risposte alle esigenze di una parte significativa della popolazione prevedono infatti, ha detto Bignotti, una gestione economicamente più sostenibile evitando altri costi a carico della collettività. In discontinuità col passato si darà inoltre la possibilità a molti giovani di uscire dal nucleo familiare di origine conquistando l'indipendenza abitativa. L'amministrazione prevede, ha detto, di indire ulteriori bandi rivolti in particolare alle fasce deboli, sempre nell'ottica di una programmazione efficiente ed efficace della gestione dell'importante patrimonio immobiliare. È stato pubblicato un altro avviso, ha detto l'assessore, per contributi economici di sostegno al reddito, il cosiddetto bonus economico, in favore di nuclei familiari con richiedenti di età inferiore 65 anni e con reddito ESEE fino a 6.000 euro. Si tratta di un importante provvedimento, i cui indirizzi sono stati deliberati dall'amministrazione con l'obiettivo di supportare le numerose famiglie aquilane in difficoltà, concedendo un sostegno, una tantum. Quest'anno il beneficio riguarderà un numero maggiore di utenti dal momento che il reddito massimo di accesso all'intervento è stato innalzato dai precedenti 4.000 ai 6.000. Sarà anche il momento di utilizzare un nuovo applicativo elaborato da Servizio Elaborazione Dati, il SED del Comune, per consentire il caricamento in tempo reale delle domande, in modo da poter ridurre i tempi per la predisposizione della graduatoria.